Musica E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani Sono qui sempre su Cube World praticamente E volevo farvi vedere alcune cose praticamente Ci tenevo perché ci ho perso un po' di tempo, l'ho scoperta questa cosa e volevo condividerla ovviamente Stiamo parlando di questi oggetti che vengono droppati dai mostri I Leftovers, li vedete? Praticamente non riuscivo a utilizzarli in nessun modo Finché una bellissima prova mi ha svelato l'arcano E adesso siamo in città praticamente, una città che si chiama Sankor E adesso cerchiamo di trovare Andiamo più in mezzo alla città qua, vediamo un attimino se riusciamo a beccare qualcosa che ci possa essere utile Noi stiamo cercando il negozio che identifica gli oggetti Eccolo qui, questa lente qui, bene, quindi siamo di là, perfetto E adesso vi faccio vedere questa cosa che mi ha lasciato di stucco perché questo gioco non finisce mai di stucco Eccolo qui, siamo arrivati finalmente Quindi vedete la lente di ingrandimento Entriamo qui Angram, umano Con la barba verde, va bene Ciao Angram Ecco qui, praticamente cosa fa? Dobbiamo identificare questi oggetti Quindi praticamente Clicchiamo col tasto destro E vedete, praticamente costa 3 copper Copper Per identificarlo Identifichiamolo E a quanto pare, se non sbaglio, ce lo troviamo nell'inventario Eh sì Per mago Andiamo avanti Identifichiamo, tanti di soldi noi ne abbiamo appalate Quindi Identifichiamo quest'altro Super Woodwang Quindi praticamente come vedete Mi ha identificato Eccola qui Una Arby diciamo Molto rare, molto importanti Quindi direi di Di farlo Farlo Identificato Vediamo Unico Lean Glows Vediamo di cos'è Mai roba per guerrieri Ragazzi, mai vero Un per ranger Va bene, continuiamo Andiamo avanti Perché sono cose molto Molto importanti Identifichiamo Battle Tester Silver Balanced Vediamo un po' di cosa si tratta Sempre per mago Vediamo un pochino Io dovevo avere qualcosa di super qua Eccola qua Questa 61 Dai, dai Qualcosa di figo Unburn Exception Iron Sword Ecco qui Questa qui potrebbe essere Una cosa figa Eccola qui 23 di danno Ragazzi 23 di danno Una bestia Guardate che bella Benissimo Sono contento Andiamo avanti Avete visto Quindi è importante Prendere questi oggetti Non sottovalutarli Perché qui In Cube World Tutto ha la sua logica Tutto serve Praticamente Identifichiamoli tutti Poi intanto ci ritroviamo Nell'inventario E vediamo Che figate ci sono Sono veramente Contento Di aver capito Finalmente Non sapevo Intanto si prende anche Un go Per pochissimo Per identificarli Quindi ci ritogliamo Da mezzo Almeno Abbiamo un po' Spazio Noi Bene Abbiamo identificato Tutto a quanto pare Sì Adesso andiamo a vedere Nell'inventario Che cosa Ci viene fuori E quindi guardate qui Tutta roba Importante Verde Cioè Niente male questo 40 Ok C'era la mia spada Guarda queste spallette Che belle che sono Qualcosa verde Una spada rogue Un anello Questo secondo me È veramente buono Dopo vediamo se indossarlo Una spada per un rogue Uno scudo 69 Niente male E questa spada viola È fighissima Fighissima Ah Power 61 Da Da Quindi devo conservarla Dal Quindi cavolo Niente male Quindi dal Quando Quando salirò di livello E sarò a livello 61 Adesso sono a 59 Potrò usare quella spada Che è molto bella Devo dire 26 Questa l'avevo anche Pensando che poi Non ha nessun potenziamento Quindi immaginate 43 di HP Allucinante 43 di HP E 23 di danno Questa se la potenziamo Con dei gioielli E delle cose Diventa una bestia Va bene ragazzi Quindi ricordatevi sempre Che nelle città Praticamente Potete identificare Queste pietre preziose E vi restituirà Insomma Con una piccola In gente Insomma Piccolissima Somma di senaro Vi restituirà Un oggetto Un oggetto Importante Perché qui L'equip fa molto La differenza Insomma Inutile a dirlo In tutti Un pochino Gli RPG Questo Va bene Spero di avervi Fatto vedere Qualcosa Che vi ritorni Utile Mujaidin L'ultimo In tale banale Nobretani Vi saluta A presto E ciao 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 Yeta Andiamo Nuovo avventure Di tarta Andiamo Andiamo Andiamo